1.800 campioni Covid al giorno, 55.000 negli ultimi due mesi, un metodo di analisi infallibile. E' questo in sintesi l'impegno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo, che è diventato un simbolo di efficienza, una certezza scientifica nazionale in questo periodo storico di pandemia. Ad oggi complessivamente abbiamo esaminato oltre 54.000 campioni, con delle punte superiori a 1.800 campioni al giorno. Raggiungere questi numeri ha richiesto un grande sforzo organizzativo e anche un'ottimizzazione del metodo analitico. Attualmente oltre 60 operatori sono dedicati all'attività diagnostica, sono organizzati in 8 squadre, su due linee separate di lavorazione e di lavoro, per assicurare la completa separazione tra le fasi analitiche e queste linee di lavorazione e quindi assicurare l'operatività del laboratorio anche in caso di contagio di un operatore. Il 16 marzo scorso il Ministero della Salute ha autorizzato l'IZS di Teramo ad entrare nella rete Covid-19 della regione Abruzzo. E anche l'ASL di Bergamo ha firmato una convenzione con l'ente Teramano per l'analisi dei tamponi. Un bilancio finora davvero importante che conferma quanto sia fondamentale per combattere le malattie il concetto di One Health, cioè la stretta sinergia tra medicina veterinaria e medicina umana. Si parla ormai da anni della medicina unica e del concetto di One Health. Questo è stato un passaggio dolorosissimo ulteriore per far capire che la salute dell'uomo è strettamente legata alla salute degli animali, all'ambiente, perché questo è un virus che è emigrato dall'animale all'uomo, un cosiddetto spillover in ambito scientifico. Ed è fondamentale che la medicina veterinaria sia accanto alla medicina umana tradizionale, che lavorino a braccetto. Io ho sentito i colleghi francesi recentemente, loro sono stati coinvolti nella diagnosi del coronavirus solo l'ultima settimana, cioè sette giorni fa. Noi invece tutta la rete degli istituti zooprofilattici ha cominciato a lavorare sulla diagnosi del coronavirus, caso unico in Italia. Noi invece abbiamo fatto anche qui a Teramo degli esperimenti, non degli esperimenti, degli studi epidemiologici, come quello che si è concluso a Caldari, per fortuna positivamente, dove abbiamo dato addirittura delle indicazioni alla medicina del territorio per superare, almeno in certe zone, la crisi.